Quando si accende l'amore è una pazzia temporalea, l'amore scoppia come un terremoto e in seguito si placa e quando si è placato bisogna prendere una decisione, bisogna riuscire a capire se le nostre radici sono così inestricabilmente intrecciate che è inconcepibile il solo pensiero di separarle, perché questo è l'amore a questo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. , 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 ,, , ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, 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 ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,,, Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , 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 ,... , , , , ,... ,... ,... , ,... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.